accendiamo i riflettori vediamo chi sono le stelle che oltre a della valle hanno brillato in questa final eight media punti quasi raddoppiata rispetto alla regular season e soprattutto un quarto di finale contro Varese da assoluto protagonista Vassili Saralan Populos è stato il miglior realizzatore di pesaro in entrambe le partite alla final eight capace di trascinare la Carpegna Prosciutto a suon di triple chirurgiche e canestri pesanti Marco Bellinelli ha fatto tutto il possibile e anche di più perché la Virtus Bologna tornasse a sollevare la Coppa Italia dopo 21 anni i suoi 65 punti con 16 triple in tre partite nuovo record per le final eight non sono bastati ma hanno entusiasmato il pubblico presente al pala alpitù che non gli ha risparmiato applausi e stand innovation un sesto uomo di lusso capace di rifinire le partite nelle fasi decisive CJ Messimburg ha offerto la migliore versione stagionale di sé nella Kermess di Torino contro Milano ha respinto la rimonta e a sette con canestri pesanti nei momenti cruciali contro Pesaro ha sfiorato la doppia doppia e in finale ha messo alcuni dei sigilli definitivi a suon di colpi di classe grazie a tutti